ripartiamo dalla voce il podcast della federazione italiana teatro amatori la magia delle voci questi bambini disse il dottore della mutua avrebbero bisogno di respirare un po d'aria buona una certa altezza di correre sui prati era tra i letti del seminterrato dove abitava la famigliuola e premeva lo stetoscopio sulla schiena della piccola teresa tra le scapole fragili come le ali di un celletto in plume i letti erano due e quattro bambini tutti ammalati facevano capolino a testa e a piedi dei letti con le gote accaldate e gli occhi lucidi sui prati come l'aiola della piazza chiese michelino un'altezza come il grattacielo chiese filippetto aria buona da mangiare domandò pietruccio marco valdo lungo e affilato e sua moglie domitilla bassa e tozza erano appoggiati con un gomito ai due lati di uno sgangherato cassettone senza muovere il gomito alzarono l'altro braccio e lo lasciarono ricadere sopra il fianco brontolando insieme e dove vuole che noi otto bocche carichi di debit come vuole che facciamo il posto più bello dove possiamo mandarli precisò marco valdo è per la strada aria buona la prenderemo concluse da unitilla quando saremo sfrattati e dovremo dormire allo stellato il pomeriggio di un sabato appena furono guariti marco valdo prese i bambini li condusse a fare una passeggiata in collina abitavano il quartiere della città che dalle colline era il più distante per raggiungere le pendici fecero un lungo tragitto su un tram affollato e i bambini vedevano solo gambe di passeggeri attorno a loro a poco a poco il tram si vuotò ai finestrini finalmente svombri apparve un viale che saliva così giunsero al capolinea e si misero in marcia era appena primavera gli alberi fiorivano un tiepido sole i bambini si guardavano intorno lievemente spaesati marco valdo li guidò per una stradina a scale che saliva tra il verde perché c'è una scala senza casa sopra chiese michelino non è una scala di casa è come una via una via e le macchine come fanno quei gradini intorno c'erano muri di giardini e dentro gli alberi muri senza tetto ma ci hanno bombardato sono giardini una specie di cortili spiegava il padre la casa è dentro lì dietro quegli alberi michelino scossa il capo poco convento ma i cortili stanno dentro alle case mica fuori teresina domandò in queste case ci abitano gli alberi man mano che saliva a marco valdo pareva di staccarsi di dosso l'odore di muffa del magazzino in cui spostava pacchi per otto ore al giorno e le macchie d'umido sui muri del suo alloggio e la polvere che calava dorata nel cono di luce della finestrella e i colpi di tosse nella notte i figli ora gli parevano meno giallini e gracili già quasi immedesimati di quella luce e di quel verde vi piace qui sì sì perché non ci sono vigili si può strappare le piante tirare le pietre e respirare e respirate no qui l'aria è buona masticarono ma che non sa di niente salirono fin quasi sulla cresta della collina a una svolta la città apparve laggiù in fondo distesa senza contorni sulla grigia ragnatela delle vie i bambini rotolavano su un prato come non avessero fatto altro in vita l'ora venne un filo di vento era già sera in città qualche luce si accendeva in un confuso brillio marco valdo risentì un'ondata del sentimento di quando era arrivato giovane alla città e da quelle vie da quelle luci era attratto come se ne aspettasse chissà cosa le rodine si gettavano nell'aria capofitto sulla città allora lo prese la tristezza di dover tornare laggiù e decifrò nell'aggrumato paesaggio l'ombra del suo quartiere e gli parve una landa plumbea stagnante ricoperta dalle fitte scaglie dei tetti e dei brandelli di fumo sventolanti sugli stecchi dei fumaioli si era messo fresco forse bisognava richiamare i bambini ma vedendoli dondolarsi tranquilli i ramiti più bassi di un albero scacciò quel pensiero michelino gli venne da presso e chiese papà perché non veniamo a stare qui è stupido qui non ci sono case non ci sta mica nessuno fece marco valdo con stizza perché stava proprio sfantasticando di poter vivere lassù e michelino nessuno e quei signori guarda l'aria diventava grigia e giù dai prati venivano a compagnia d'uomini di varie età tutti vestiti di un pesante abito grigio chiuso come un pigiama tutti col berretto e il bastone se ne venivano a gruppi alcuni parlando a voce alta o ridendo puntando nell'erba coi bastoni o trascinandoli appesi al braccio per il manico ricurvo chi sono dove vanno chiese al padre michelino ma marco valdo li guardava zitto uno passò vicino era un grosso uomo sui 40 anni buonasera disse allora che novità ci portate di in città buonasera disse marco valdo ma di che novità parlate niente si dice per dire fece l'uomo fermandosi aveva una larga faccia bianca con un solo sprazzo rosa o rosso come un'ombra proprio in cima alle guance dico sempre così a chi viene di città sono da tre mesi quassù capirete e non scendete mai ma quando piacerà ai medici e fece una breve risata e a questi qui e si battè con le dita sul petto e ancora fece quella breve risata un po ansante già due volte mi hanno dimesso per guarito e appena tornato in fabbrica tacchete da capo e mi rispediscono quassù ma allegria e anche loro fece marco valdo accennando agli altri uomini che si erano sparsi intorno e nello stesso tempo cercava con lo sguardo filippetto e teresa e pietruccio che aveva perso di vista tutti i compagni di villeggiatura fece l'uomo e strizzò all'occhio questa è l'ora della nostra libera uscita prima della ritirata noi si va a letto presto si capisce non possiamo allontanarci dai confini che confini qui è ancora terreno del sanatorio non lo sa marco valdo prese per mano michelino che era stato a sentire un po intimidito la sera risaliva le ripe là in basso il quartiere non si distingueva più e non pareva essere stato inghiottito dall'ombra ma avere dilatato la sua ombra dovunque era tempo di tornare teresa filippetto chiamò marco valdo e si mosse per cercarli scusi sa disse all'uomo non vedo più gli altri bambini l'uomo si fece su un ciglio sono là disse colgono ciliegie marco valdo in una fossa vide un ciliegio e intorno stavano gli uomini vestiti di grigio che coi loro bastoni ricurvi avvicinavano i rami e coglievano i frutti e teresa i due bambini insieme a loro tutti contenti coglievano ciliegie ne prendevano dalle mani degli uomini e ridevano con loro è tardi disse marco valdo fa freddo andiamo a casa l'uomo grosso muoveva la punta del bastone verso le file di luci che si accendevano là in fondo la sera disse con questo bastone mi faccio la mia passeggiata in città scelgo una via una fila di lampioni e la seguo così mi fermo alle vetrine incontro la gente la saluto quando camminerete in città pensateci qualche volta il mio bastone vi segue i bambini ritornavano incoronati di foglie per mano ai ricoverati come si sta bene qui papà disse teresa torneremo a giocarci vero papà sbottò michelino perché non veniamo a stare anche noi insieme con questi signori è tardi salutate i signori dite grazie delle ciliegie avanti andiamo presero la via del ritorno erano stanchi marco valdo non rispondeva alle domande filippetto voleva essere preso in braccio pietruccio sulle spalle teresa si faceva trascinare per mano e michelino il più grande andava avanti da solo prendendo a calci i sassi